I send my prayers and good wishes to all those who will be marking this solemn anniversary. La responsabilità della strage è stata argomento controverso. Nel 2011 il ministro della giustizia libico ammise la responsabilità del governo Gheddafi. L'attentatore, Abdel Basset Ali Mohamed Al-Megrai, fu arrestato dalle autorità britanniche nel 2001 per poi essere scarcerato in qualità di malato terminale. Nel 2003 Mohamed Gheddafi accettò di risarcire le famiglie delle vittime della strage. Grazie.